Cari lettori e lettrici, la novità letteraria che sto per presentare è un romanzo di narrativa contemporanea, magico, che è una discesa vertiginosa nella memoria dei luoghi e delle persone che li hanno popolati, alla riscoperta della vita nascosta e infinita che ancora li abita. Una voce libera che erra per giardini e anime, e non si perde mai. La trama del libro dove la luce della scrittrice Carmen Pellegrino, pubblicato dalla casa editrice La nave di Teseo, è la seguente. Roma, aprile 1987. Milo è un uomo che ha perso tutto per colpa di altri, devotissimo alla morte, che invoca ogni giorno, ma che non ha il coraggio di infliggersi, e costretto a vivere per strada. Federico Caffè è il professore, figura ammantata di interrogativi destinati a non ricevere mai risposta. Il primo è un personaggio, forse d'invenzione, il secondo un uomo realmente esistito. Tra i protagonisti del dibattito politico ed economico degli anni 80 è convinto sostenitore della necessità di assicurare alti livelli di occupazione e di protezione sociale ai ceti, più deboli. La sua improvvisa scomparsa è un mistero rimasto tuttora irrisolto. Il suo incontro con Milo è un nuovo enigma. Postiglione, febbraio 2023. Una voce narrante si fa carico della memoria della sua famiglia, ripercorre le fatiche e le gioie del debito d'amore che tutti abbiamo verso le nostre radici. Le vite di Milo e del professore entrano così nella storia di una donna, di un paese, di un'intera generazione in lotta, divisa tra l'odio e la malinconia per un tempo che, forse, non tornerà più. Grazie per l'attenzione e buona lettura. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensi della trama del libro presentato. Se hai voglia di condividere il tuo pensiero lasciami un messaggio. Celebra la magia della lettura condividendo questo video e aiutami a diffondere l'amore per i libri. A te non costa nulla, per me sarebbe un bel gesto di gratitudine. Ricorda, ogni piccolo gesto può fare la differenza. Per non perdere le novità letterarie iscriviti al canale.